Oh Lion, adesso cambio da dietro la linea, non sulla linea, da Dead Rio Andiamo, andiamo Lion, messaggino, Lion, ultima, un rientrante e dopo ho casa Da dietro la porta Sì o no? Sì o no? So che in questo paese la condizione fisica è una delle cose più importanti a me Il gol fuori dal 30 novembre, perché ti sta costando un poco più di lavoro marcar fuori?